Parte da tre grandi criticità che investono le aziende sanitarie sassaresi l'analisi che Italia Attiva Sardegna vuole dedicare alla sanità cittadina e regionale. Di servizi e risparmi mancati, problemi che la recente nascita dell'azienda per la tutela della salute non ha ancora risolto, con una razionalizzazione attesa ma che stenta a decollare. Il primo aspetto è quello della giudicazione di alcuni contratti e appalti gestiti dalla vecchia ASL che in alcuni casi sembrerebbero violare le più elementari regole della concorrenza. Su queste situazioni Italia Attiva ha scelto di inviare una lettera via PEC al direttore generale della TS Fulvio Moirano, al presidente della regione Francesco Pigliaru e all'assessore della sanità Luigi Arru. La seconda criticità investe il patrimonio immobiliare e gli affitti pagati per un totale di 190.000 euro che potrebbero essere risparmiati utilizzando invece spazi di proprietà della TS come il complesso di San Camillo. Il terzo settore di indagine è quello delle liste d'attesa e della gestione del pronto soccorso. La proposta di Italia Attiva, in particolare per il servizio radiologico, è di estenderlo H24 come avviene in altre regioni. Per il pronto soccorso invece basterebbe di lottare i pazienti con codici bianchi e verdi nei poliambulatori alleggerendo così le file per le emergenze. All'incontro con la stampa sono intervenuti il coordinatore regionale di Italia Attiva, Toripiana, la coordinatrice provinciale Elena Vidili e la responsabile del Dipartimento Servizi Sociali, Ermelinda De Logu. La nostra preoccupazione è che in seguito questa riforma voluta dalla nostra regione Sardegna si possa presentare come un mostro, un carrozzone con veramente molte criticità così come ad esempio può essere ravvisabile un raffronto con Abanoa, altro mostro che presenta veramente tante criticità e anche difficoltà che poi ricadono su tutti i cittadini.